Al gran gol su punizione di Sosa risponde l'inserimento vincente di Donida. Finisce così 1-1 il derby a Pulo Lucano, tanto atteso tra Matera e Team Altamura e che nonostante la difficile condizione meteorologica ha richiamato circa 2000 spettatori. Quinto risultato utile e consecutivo per gli uomini di Ciullo che interrompono la striscia di due successi consecutivi ma danno continuità staccando la zona play-out. Dall'altro lato la squadra di Ginestra perde al momento i play-off ma conquista il sesto risultato positivo di fila dopo i tre successi consecutivi. 3-5-2 a confronto con Bottalico e Piccioni da un lato a guidare il fronte offensivo e Sosa Croce dall'altro per i due tecnici Ciullo e Ginestra. Gara inevitabilmente caratterizzata dalla costante pioggia che ha reso sempre più pesante il terreno di gioco durante la gara. Passano 10 minuti prima di vedere il primo squillo del match grazie al tiro di Ferrara su cui spine decisivo nella deviazione in angolo. Sempre Ferrara sfiora il palo con una gran conclusione di sinistro dai 25 metri. Dopo il primo quarto d'ora in cui il Matera mette alle corde l'alta mura i murgiani si riorganizzano in campo e chiudono meglio gli spazi provandoci anche con due conclusioni deboli di Dipinto e Croce. Una indecisione della difesa ospite però consente poco oltre la mezz'ora al giovane Montanino di calciare in porta da buona posizione. Attento però Spina e anche la parola fine su di un primo tempo poco emozionante. Pioggia incessante che non lascia Matera con i padroni di casa però subito pericolosi con l'inserimento del solito Montanino il cui tiro è ben parato da Spina. Allora la soluzione migliore per sbloccare l'incontro nella difficoltà di giocare palla a terra non può che essere sul calcio di punizione. Sosa timbra il cartellino a metà seconda frazione facendo passare la palla bassa tra una selva di gambe beffando sul suo palo Pozzer nella grande festa dei circa 700 tifosi murgiani giunti a Matera. La replica dei padroni di casa arriva subito con il cross teso di Iaccarino su cui Piccioni anticipa tutti ma manda di un soffio sul fondo. C'è però una deviazione secondo il direttore di gara e sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il pari siglato da Donida completamente dimenticato dalla difesa ospite. Dopo il pari però a vincere è la difficoltà di giocare sul terreno di gioco sempre più pesante con l'incessante pioggia anche se l'Altamura si affaccia almeno altre due volte dalle parti di Pozzer. Prima quella più clamorosa con Molinaro che a porta praticamente vuota manca il tocco vincente per il vantaggio e poi con dipinto palla respinta dall'estremo difensore di casa. Per la squadra di Ginestra ora sfida a Casalinga questa volta contro la neocapolista Barletta sfida tra Biancorossi per provare a ritrovare la zona playoff, Lucani invece attesi da una ostica trasferta da Fragola.